La stessa cosa con la legge elettorale, avevamo fatto un accordo che poi è stato cambiato, abbiamo detto sì sì, anche perché ci attendiamo altre cose importanti per noi. Sta questo governo e questa maggioranza dando vita a una riforma della giustizia, speriamo di cuore che sia una riforma, non dico completa, questo non possiamo aspettarci, ma una riforma che sani tutti i vizi terribili che rendono ogni cittadino non sicuro dei propri diritti, dei propri beni, della propria libertà.